Tantissimi tifosi accorsi in piazza Luigi Palomba ad assistere attraverso i pax di schermo alla cerimonia di premiazione dello scudetto del Napoli. Tra cori, musica e bandiera al vento la gioia per il successo in campionato della squadra azzurra non accenna a diminuire. Le immagini dei giocatori che sollevano al cielo la coppa conquistata dopo una cavalcata trionfale hanno regalato a tutti gli appassionati un momento tanto atteso e sperato per tantissimi anni e che finalmente possono dare sfogo a tutta la loro felicità. Ilessandro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.